C'è carenza di vaccini e le aree interne, come sempre, lamentano, i sindaci sono sempre gli ultimi. Che cosa avete ottenuto dall'assessore regionale della sanità Nicoletta Veri? Innanzitutto abbiamo ottenuto che faremo un incontro la settimana prossima per capire bene come va avanti questo piano vaccinale. Noi sindaci della Ventino ci siamo mossi perché è arrivato il momento di avere chiarezza sul piano vaccinale. Finalmente abbiamo un po' di luce in fondo al tunnel e dopo un anno che stiamo combattendo questa drammatica battaglia contro il coronavirus è arrivato il momento di entrare nel merito e avere trasparenza del piano vaccinale. Proprio per questo ci siamo rivolti innanzitutto al direttore generale della ASA e al direttore sanitario per capire lo stato di attuazione. Allo stesso tempo, dopo le loro risposte, ci hanno confermato comunque che in settimana ci stava la vaccinazione di tutto il personale scolastico però noi abbiamo chiesto fortemente la vaccinazione per gli over 80 e per le persone fragili. Noi non vogliamo essere privilegiati però allo stesso tempo non possiamo e non dobbiamo essere marginalizzati. Quindi chiarezza e trasparenza i sindaci della Ventino chiedono e ci faremo garanti di questa situazione. Anche Casoli ha pagato un alto tributo a questa pandemia. Com'è la situazione ad oggi, sindaco? Ad oggi siamo a 38 contagiati e i numeri crescono quindi è proprio per questo che faccio un appello a tutti di rimanere fermi e di non muoverci. È il caso di fare un grande sforzo. Lo capisco che è un anno che ci stiamo sforzando però lo dobbiamo continuare a fare perché come dicono i sanitari il virus cammina sulle nostre gambe e se noi rimaniamo fermi anche il virus rimarrà fermo. Nelle aree interne e noto abitano tantissimi anziani. Ad oggi noi abbiamo 5.000 persone da vaccinare sul nostro territorio delle persone anziane. Su Casoli ne sono circa 500. La ASLIC ha inviato un elenco di circa 380 persone e poi noi abbiamo aggiunto altre 140 persone. Ma noi sindaci riceviamo giornalmente le richieste da parte dei nostri cittadini. Io ho questa difficoltà, quest'altra difficoltà. Ci siamo messi a disposizione per poter fare l'inserimento dei dati su internet ma allo stesso tempo dobbiamo dare risposte su come e quando verranno vaccinati. Ci hanno risposto che non prima di aprire ma noi dobbiamo andare avanti e dobbiamo sapere appena arrivano questi vaccini in modo non individualistico ma in modo generalizzato a chi va e chi è la priorità per vaccinarsi.